Saldo, Pragmatic B, Salvatore Madonia, seconda fila, Pegasus B, Gustavo Matarazzo, Poglianna, Fabrizio Picciano, Pip Code, Enrico Colombino. Il galoppo del numero 5 Passpartout Griff e del 2 Feton SB, Princess Wild Bip al comando avanti a Prua S, in terza posizione Pisana, Noff in quarta, Poglianna, la squalifica per Feton SB, era il contro favorito rispetto a Prua S, squalificato anche Passpartout Griff, squalificato anche Pip Code, Prua S la favorita non tarda a presentarsi sulla battistrada Princess Wild Bip e dopo l'uscita della piegata, Nuova leader, la favorita Prua S che completa il quarto iniziale a media di 1,15, 30 letti i primi 400 metri, in seconda posizione all'esterno il 3 di Pisana, Noff, poi ancora Poglianna con in fuori Pischi per avanti a Pragmatic B e Pegasus B, 44,7 per il 600, all'avanguardia Prua S, secondo all'esterno Pisana, Noff, così si arriva al paletto di metà corsa, 31,5 il secondo quarto, 1,01 il 5 per completare gli 800, alla media di 1,16,9. Dal gruppo sposta Pragmatic B, sempre Prua S all'avanguardia, il giro è completato in 16,9, con Prua S avanti a Pisana Noff, poi Princess Wild Bip, all'esterno Piskeeper su Pragmatic B, poi Poglianna, lungo l'arco della curva conclusiva, 29,8 la frazione, 1,31,3 per i 1,002, alla media di 1,16,1, completamento della curva ingresso in dirittura, con Prua S in vantaggio, sbaglia Pisana Noff, in seconda così, Piskeeper, quanto meno un'incertezza per la gioventa di Carlone, in evidenza Prua S per la seconda Piskeeper, con all'interno Pisana Noff, e allora Prua S che va a concludere su Pisana Noff, Piskeeper, Pegasus B e Princess Wild Bip, 29,5 il quarto conclusivo, 2,008 il tempo totale, media chilometro, 1,15,5, da leader dopo 400 metri e da favorita, Prua S con Marco Castaldo, inaugura il pomeriggio torinese, un pomeriggio con 7 ottavi, all'insegna dell'Ippica Nazionale. Grazie.